Si attende soltanto la ciliegina sulla torta, ma sembra davvero che ormai il Foggia sia pronto per lo start. Dopo l'ingaggio di Marco Ballarini, centrocampista proveniente dall'Udinese, Davide Di Pasquale, difensore centrale della San Benedettese, il club rossonero ha promosso anche i calciatori che erano in prova sotto la lente d'ingranimento del maestro Zeman. Parliamo dell'esterno offensivo Filippo Tuzzo, il difensore Domenico Girasole, il portiere classe 2000 Joaquin Domingo Dalmasso e il difensore centrale Giacomo Sciacca. I primi tre hanno firmato un contratto di un anno con opzione, l'ex Fibonese invece è un biennale. Dunque, volti nuovi e giovani, proprio quelli che piacciono al boemo, proprio quei calciatori con la testa e le gambe da forgiare atleticamente. Sarà questo l'ultimo fine settimana senza calcio per i rossoneri, che prima di ferragosso insisteranno ancora con la tattica. All'orizzonte c'è la Paganese in Coppa e dopo una settimana il Monterosi in campionato. Se per la Coppa Italia il 21 il giorno è stabilito e non ci saranno variazioni, tra l'altro si conosce anche l'orario in cui i satanelli scenderanno in campo, vale a dire le 21, si attende ancora per l'inizio del campionato perché tutte le ripescate hanno presentato la richiesta di rinvio in lega. Intanto la squadra continua ad allenarsi presso il campo sportivo della FIGC.